3, 2, 1, via, buon divertimento, facciamo attenzione alla partenza, bravi così, un bel applauso, bravissimi, 6 km e 620. Siamo arrivati a 14 candeline e c'è da dire che quest'anno la Cucurin ha ampliato gli orizzonti, oltre all'aspetto sportivo tratteremo alcuni temi come quello dell'alimentazione sostenibile e dell'immigrazione, inizieremo già venerdì 4 ottobre alle ore 18 con un incontro dal titolo Alimentazione Sostenibile e Agricoltura Biologica tenuto dalla professoressa dell'Università di Urbino Elena Viganò al quale saranno presenti anche delle aziende agricole, del biologico, del territorio. Oltre a questo parleremo di immigrazione, lo faremo appunto sempre domenica però alle ore 17 con uno spettacolo ad ingresso gratuito di Mohamed Ba dal titolo Il Riscatto. E poi la classica, la giornata classica che è quella di sabato con il Memorial Giuseppe Burrai giunto alla non edizione, la corsa per i bambini, la camminata, la camminata a quattro zampe, Nordy Walking, quindi una giornata di movimento ma anche di sensibilizzazione perché ci saranno poi i laboratori ludici delle associazioni del territorio che dedicheranno il loro tempo ai bambini. E quindi cosa posso dire in conclusione? Ecco, vi invito a venire a Cucurano, al Circolo Acli, a passare questo weekend per la quattordicesima edizione della Cucurano. Ormai mancano pochi minuti all'arrivo ancora. Mi piace sottolineare il fatto che abbiamo cambiato giorno. Quest'anno la gara la facciamo di sabato proprio per incentivare di più anche la partecipazione degli adulti e dei bambini soprattutto. E vi posso già anticipare che abbiamo avuto numerose preiscrizioni delle scuole elementari, siamo giunti a 250 preiscritti, un numero mai toccato fin d'ora. Per quanto riguarda la podistica degli adulti, siamo tornati ai classici 10 chilometri misurati, perfetti, in cui tutti si possono cimentare per provare il proprio personal best. Sul percorso? Il percorso è tutto pianeggiante, che si snoderà lungo le strade di Cucurano, Falcineto e Bellocchi, diciamo così. E posso anticiparvi una sorpresa, che avremo un ospite molto importante a livello di atletica leggera italiana. Abbiamo la presenza del campione italiano degli 800 metri su pista, Simone Barontini. Io chiedo a tutti di partecipare anche alla passeggiata o se avete un cane venire a fare la passeggiata con il proprio cane. L'incasso sarà devoluto alle prime tre scuole che riusciranno a portare il maggior numero di ragazzini. Ecco che sta arrivando al traguardo, lo stiamo seguendo insieme.